Santa Vergine a Melani Sarà presto sganciata orribile bomba su questa nazione. Maria, la Madre di Dio, appare alla Veggente Melani durante il tempo di preghiera del gruppo e comincia a farle vedere immagini interiori. Ecco le immagini che trasmette, che indicano come la guerra in Medio Oriente assumerà dimensioni più vaste e molto più catastrofiche di ora. Leggiamo il messaggio. Il jet vola su un paesaggio collinare, su molte piccole colline o su una piccola catena montuosa. Sembra di essere in Medio Oriente, come in Iran o in Iraq. Maria mostra alla Veggente Melani un jet relativamente moderno che arriva. Vola brevemente un po' più in basso e poi di nuovo in alto, lasciando dietro di sé una scia di fumo che si suppone rappresenti una bandiera con un blu brillante, un bianco al centro e infine un rosso. La visione torna a un jet che lancia un missile. Un proiettile allungato che vola dritto davanti a sé e un altro jet con diversi dispositivi per sparare rapidamente, come una mitragliatrice. La Veggente pensa ai jet russi in Medio Oriente. L'immagine dei jet che sparano missili lunghi e orizzontali si ripete. Sono lunghi come un braccio o un po' più piccoli. La prospettiva cambia e ora si possono vedere i jet che volano nel cielo da terra. Sono gruppi di tre. Volano tutti nella stessa direzione e provengono dalla stessa direzione. Volano insieme. Poi Maria saluta con il segno della croce. Poi Maria saluta con il segno della croce. Poi Maria saluta con il segno della croce.